Unto di pelle sulla camicia colorata, i calzini da far tornare bianchi e qui sui jeans macchie di grasso. Ma un bucato così è impossibile. Niente è impossibile, per dio presto bucato a mano. Perché è sicuro sul bucato. E lo sporco? Lo sporco è liquidato da capo a piedi, visto che è pulito, lo sporco impossibile è eliminato, il bianco è bianco e il colore è colore. Bio presto, sicuro sul bucato, lo sporco è liquidato.